Sì, grazie, era il microfono. Per annunciare che presenteremo una mozione ex articolo 58 è notizia di oggi che la Regione Lazio ha presentato le linee guida per il nuovo piano di rifiuti dove prevede dopo sette anni, sette anni che non ha fatto niente, prevede una nuova malagrotta a Roma. Noi questa nuova malagrotta a Roma non la faremo realizzare, né a Roma e in provincia. Potete anche farmi lasciare, ma una nuova malagrotta a Roma non si farà mai. Consigliere, non è un richiamo a regolamento. Il PD si può ammettere anche l'anima in pace. Non è un richiamo a regolamento, sta illustrando la mozione che vi dice che presenterà. Il rigatto della politica, non sono solo il rigatto del passato. L'amministrazione a Roma è cambiata. Tutto non si farà mai una discarica a Roma. Ci sono delle tecnologie alternative, lo sta facendo anche la Regione Puglia che è governata dal PD. Non si capisce il motivo per cui a Roma che governano i 5 Stelle vogliono riporre la discarica. Non è possibile! Prego, consigliere, si può accomodare. Grazie.